vali rosso neri tifosi dalla squadra capolista bentornati sul canale ragazzi la pazzia di self sta contagiando un po tutti perché ieri stavo ascoltando la radio e per l'ennesima volta per la seconda volta quest'anno mi sono accorto che siamo finiti in radio un'altra volta ormai i ragazzi di r101 sono contagiati dalla mia follia e prendono gli estratti delle mie clip questa volta hanno preso un pezzettino dello sfogo mio contro i gufi dopo verona milan per la fata al verona ragazzi adesso vi faccio sentire la clip perché è divertentissima io sono molto molto contento di questo voglio ringraziare tutti quanti perché se ci stiamo espandendo stiamo diventando contagiosi in giro per il web per la radio e anche merito vostro quindi continuiamo a iscriverci al canale mi raccomando dobbiamo arrivare a 5.000 mancano pochissimi iscritti iscrivetevi iscrivetevi mando la clip vi voglio bene a tutti e sempre forza diavolo giallo blu e ovviamente si sono riaperti tutti gli incubi della fatal verona quello scudetto perso dal milano ormai tanti tanti anni fa però poi grande reazione dei rossoneri hanno vinto anche loro riportandosi in vetta alla classifica tutto questo ovviamente con i gufi interisti che alleggiavano sul bentegodi riassunto così dal tifoso milanista posso dire una cosa a tutte le persone che stavano gufando da una settimana così è con delicatezza con tranquillità si calma no 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 il verona fatta il verona tutti i gufi sarà invitato al costanzo show nella prossima puntata lui no capra 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 ecco